Questa proposta è di 500 miliardi costruita in un determinato modo ma la Commissione Europea potrà benissimo dire settimana prossima facciamolo di 1000 miliardi includendo anche la proposta della Germania e della Francia ma aggiungendo anche altre cose. E così è successo alla fine la Commissione Europea ha proposto una via di mezzo tra la proposta franco tedesca e la proposta austriaca cioè una parte del recovery fund sarà messo a disposizione tramite dei soldi a fondo perduto e un'altra parte tramite dei prestiti ma oggi vediamo un po' più in dettaglio questa proposta della Commissione Europea. Prima però come al solito facciamo un passo indietro per avere un quadro in generale di cosa sta succedendo e come funziona un po' il tutto tutte le proposte della Commissione Europea. Innanzitutto una prima risposta europea contro questa crisi da coronavirus è stata data da un pacchetto di strumenti che ha il valore di 540 miliardi all'interno dell'eurozona composti da una nuova linea di credito del MES, un nuovo strumento che sarebbe lo SURE che sarebbe un nuovo tipo di cassa integrazione europea e anche da nuove linee di credito da parte della Banca Europea per gli investimenti. Tutte ideate per supportare lavoratori e piccole e medie imprese all'interno dell'Unione Europea. In più c'è il budget europeo che dura 7 anni e nel 2020 sta per scadere quello in vigore. Quindi ci sarà un nuovo budget europeo dal 2021 al 2027 che ha un importo pari a 1.100 miliardi di euro spalmati per 7 anni. All'interno di questa cifra ci sono tutta una serie di politiche per cercare di dare supporto all'economia nella fase di ripresa e poi in tutta un'altra serie di politiche per cercare di rafforzare questa crescita economica soprattutto puntando a un'economia verde e alla trasformazione digitale. Tra l'altro l'Unione Europea ci dice che per incentivare questa trasformazione digitale dovremmo utilizzare un asset chiave che sarebbe il 5G. Peccato che l'Italia in questi mesi ha risposto così al 5G. Mentre la trasformazione dell'economia europea in un'economia verde era già un progetto risaputo. Infatti è stato lanciato da parte della Von der Leyen il progetto Green Deal europeo di cui abbiamo analizzato anche un bel po' di sue parti nelle live per gli abbonati di questa settimana. Da oggi accanto a questi strumenti appena elencati ci sarà il Recovery Fund che la Commissione Europea ha chiamato Next Generation EU dell'importo pari a 750 miliardi. Ora io mi sono fatto un po' di giretti all'interno dell'internet e ho visto un po' di confusione alcune volte riguardo appunto questo budget europeo e la Next Generation EU che sono due cose diverse e quindi uno dei compiti di questo video è quello di fare chiarezza e distinguere i due strumenti che funzionano in modi completamente diversi. Infatti il budget europeo che come abbiamo detto ha una durata settennale si finanzia in vari modi. Esiste una tassa sui prodotti importati all'interno dell'Unione Europea che va ad accumularsi all'interno di questo budget europeo. Poi c'è la tassa sul valore aggiunto che in Italia è conosciuta come l'IVA che una certa percentuale dell'IVA va a costituire il budget europeo. Questo funziona non solo in Italia ma anche in tutti gli altri stati europei. Per ultimo una gran parte del budget europeo è costituito tramite delle risorse direttamente dagli stati che vengono trasferiti in mano all'Unione Europea in base a una percentuale di partecipazione decisa tramite un indicatore che viene definito RNL Reddito Nazionale Lordo. Successivamente queste risorse vengono poi redistribuite nell'arco di questi sette anni all'interno degli stati dell'Unione Europea. Da questo dare all'Europa e ricevere dall'Europa l'Italia è un contributore netto cioè praticamente dà più soldi di quanti ne riceve. E questo ha scannatenato un sacco di polemica all'interno dell'Italia. Ma questo si fa soprattutto perché bisogna aiutare, cioè almeno l'idea politica in questo senso è che si vuole aiutare i paesi più poveri all'interno dell'Unione Europea a crescere e ovviamente la crescita dei paesi più poveri beneficerà anche la crescita dell'Italia nel lungo periodo. Ovviamente noi non siamo gli unici ad essere contributori netti. C'è al primo posto la Germania che è il più grande contributore netto all'interno dell'Unione Europea, poi la Francia e poi noi e poi gli altri paesi. Quindi sì, se vogliamo adottare una visione un po' miope, partecipare alla costituzione del budget europeo effettivamente siamo in perdita. Anche se, se la vediamo nel lungo periodo, questo rende le cose un po' diverse. Infatti la crescita di altri paesi un po' più poveri ci abbandeggerebbe anche noi nella nostra crescita. E il problema è che molte volte le risorse che vengono dall'Unione Europea poi alla fine non sappiamo neanche utilizzarle in modo efficace e molto spesso vengono sprecate. Ma questo magari è un altro discorso che approfondiremo un'altra volta. Tutta un'altra storia invece è il funzionamento del Recovery Fund e dei suoi 750 miliardi che verranno non dagli stati membri ma direttamente dai mercati finanziari. Quindi ci sarà la Commissione Europea che emetterà dei titoli obbligazionari per poter recuperare dai mercati finanziari, quindi dalle banche, dalle imprese, dalle famiglie, 750 miliardi da poter utilizzare per questa ripresa economica e questo rafforzamento dell'economia europea anche dopo la fine di questa crisi sanitaria. Però ormai il giochino dei mercati finanziari lo conosciamo bene. Se vogliamo ricevere dei soldi in prestito dobbiamo dare la garanzia a questi investitori di poterli ripagare un giorno. E qual è la garanzia che ha la Commissione Europea per fare questo giochino di finanziarsi all'interno dei mercati finanziari per un importo di 750 miliardi? Beh, dovete sapere che tramite un meccanismo che adesso non sto a spiegarvi ma vi lascio tutte le fonti in descrizione, la Commissione Europea può ottenere una percentuale del budget europeo a sua disposizione per utilizzare ai suoi scopi. In particolare stiamo parlando del 2% del budget europeo che può utilizzare come garanzia per andare a chiedere soldi in prestito al mercato finanziario per un importo pari a 750 miliardi. Ovviamente, essendo la Commissione Europea chiedere i soldi, le condizioni dei prestiti saranno estremamente agevolate. Infatti la Commissione Europea sicuramente otterrà un rating di AAA, potendo prendere a prestito a dei tassi di interesse molto bassi e con dei titoli obbligazionari di scadenza tra i 3 anni e i 30 anni. La durata del Recovery Fund non sarà di 7 anni come il budget europeo, bensì di 4 anni, all'interno dei quali la Commissione Europea prenderà a prestito i soldi e poi li ridistribuirà all'interno degli stati membri. Questi 750 miliardi sono suddivisi in 500 miliardi a fondo perduto da ridistribuire ai paesi membri dell'Unione Europea. Quindi con delle condizioni estremamente favorevoli che l'Italia si sognerebbe. Ok, però abbiamo detto che la Commissione Europea prende in prestito 750 miliardi, ma di questi 750 miliardi, 500 miliardi verranno dati a fondo perduto. Però la Commissione Europea è costretta a ridare questi soldi ai mercati finanziari e a chi li ha prestati. Quindi come funziona il giochino? Prima o poi dovrà essere lo Stato a metterci dei soldi? Anche qui in realtà molto probabilmente no. Infatti per supportare questo nuovo strumento finanziario e in più per supportare anche le risorse all'interno del budget europeo, la Commissione Europea sta pensando di introdurre delle tasse europee, ad esempio quella sulla CO2 oppure quella sulla tassazione sulle imprese digitali che operano all'interno del mercato unico europeo. Quindi possiamo vedere che all'interno dell'Unione Europea si stia costruendo pian piano una vera e propria politica fiscale perché sta entrando nell'ottica di se faccio debito, poi questo debito lo devo ripagare e quindi devo aumentare le tasse, cosa che molto spesso questo concetto che se aumento debito devo aumentare prima o poi anche le tasse non è ben chiaro, però a livello europeo è ben chiaro e lo si dice esplicitamente, che per sostenere queste nuove spese verranno introdotte nuove tasse. Il recovery fund è stato ideato per andare incontro a tre obiettivi di politica economica. Il primo è supportare gli Stati membri nella ripresa da questa caduta disastrosa del PIL delle nazioni europee dovuta a questa crisi da coronavirus. Il secondo obiettivo è quello di cercare di dare un nuovo slancio all'economia europea, quindi andando ad investire in settori strategici tra cui abbiamo detto la green economy e la trasformazione digitale. Il terzo obiettivo, come ci dice anche la Commissione Europea stessa, è quello di imparare dalle lezioni che ci ha dato la crisi. Quindi un nuovo programma sanitario europeo e tutta una serie di azioni strategiche per incentivare l'innovazione e la ricerca scientifica, in modo da prevenire ulteriori crisi di questo tipo, o almeno di contenerle il più possibile. Ora, sono uscite anche delle cifre su come si potrebbero ridistribuire questi 750 miliardi all'interno di ogni nazione europea. Però è bene specificare che sono delle cifre non ufficiali, ma delle indiscrezioni giornalistiche. Ad esempio si è parlato come l'Italia possa ricevere 81 miliardi di euro a fondo perduto e 90 miliardi di prestiti, oppure anche ad esempio la Spagna ricevere 77 miliardi di euro di fondo perduto e 63 miliardi di prestiti, oppure la Grecia 22 miliardi di euro a fondo perduto e 9 miliardi di prestiti, mentre ad esempio la Germania 28 miliardi di fondo perduto e 0 euro di prestiti. O ancora l'Olanda 6,8 miliardi di fondo perduto e 0 di prestiti. Questa è una fonte, ma ce ne sono tante altre e molto spesso non coincidono perché non sono delle fonti ufficiali. Quindi staremo a vedere come si evolverà la situazione, perché questa è comunque una proposta da parte della Commissione Europea, che deve essere accettata poi dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo. Tutto ciò avverrà molto probabilmente entro la fine di luglio e quando appunto si saprà ancora più in dettaglio il vero funzionamento del Recovery Fund dopo l'accettazione di tutti gli Stati membri. Quindi abbiamo avuto una nuova risposta da parte dell'Unione Europea che probabilmente sta andando oltre l'immaginario dell'austerity probabilmente. Alcuni la stanno criticando perché può essere ancora più espansiva, può darsi che potrebbe essere ancora più espansiva, però delle risposte iniziali ci sono che potrebbero sicuramente poi essere prese come un punto di inizio per ulteriori espansioni. Abbiamo visto che si sta creando una vera e propria politica fiscale alternativa a quella degli Stati europei, creando un vero e proprio organismo che può ridistribuire i soldi all'interno degli Stati. Per l'Italia sicuramente questo strumento è uno strumento vantaggioso perché come abbiamo visto riceverà una buona parte di soldi a fondo perduto e un'altra parte di soldi tramite dei prestiti, però comunque ha delle condizioni estremamente favorevoli che adesso non ci possiamo permettere. Alcuni vi potranno dire che noi siamo contributori netti, in realtà siamo contributori netti all'interno del budget europeo, che è una cosa diversa dal Recovery Fund, sono due istituti completamente differenti che uno è supportato dall'altro ma ciò non significa che siano uguali e comunque se bisogna fare la somma tra i due, comunque nonostante ciò, nonostante l'Italia sia un contributore netto all'interno del budget europeo, comunque grazie al Recovery Fund riceverà dei soldi a fondo perduto oppure dei soldi a dei tassi estremamente favorevoli. Quindi si può dire effettivamente che ci sia un passo in avanti. E' stata eseguita la linea franco tedesca ed è stato aggiunto anche questa quota di prestiti dove l'Europa effettivamente non farà dei guadagni perché se l'Europa, se la Commissione Europea prenderà prestito dai mercati 250 miliardi a un tasso di interesse dell'1% per 30 anni, le stesse condizioni saranno poi trasferite agli Stati Europei che ne richiederanno l'utilizzo. Spero di essere stato abbastanza chiaro, come al solito vi lascio link in descrizione per tutte le fonti se volete approfondire. Ovviamente io vi ho detto solo una parte di tutto quello che c'è dietro, però ci sono soprattutto due pdf che sono molto interessanti e molto riassuntivi di quello che si sta cercando di fare da qui ai prossimi sette anni per cercare di far riprendere l'economia e di dargli un nuovo slancio, soprattutto in chiave verde e digitale. Alla prossima, soprattutto domani in live, alle 15 se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata. A domani! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!